Il risultato elettorale del 25 settembre 2022 è già destinato a segnare un passaggio fondamentale nella storia della Repubblica. Il risultato nazionale è chiaro, vince il centrodestra che avrà un'ampia maggioranza per poter governare e sarà Giorgia Meloni con il suo partito Fratelli d'Italia a gestire le redini della coalizione. Male Salvini e incredibilmente vivo Silvio Berlusconi con Forza Italia. Ha perso il Partito Democratico pur essendo secondo partito nazionale e soprattutto ha perso la debole coalizione di centrosinistra chiamata a riflettere sulle ragioni di questa debacle. Sopra le aspettative il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte che è riuscito comunque a tenere in vita un movimento che sembrava destinato al fallimento. Non ha raggiunto l'obiettivo prefissato il terzo polo di Calenda e Renzi che parte da una base discreta di consenso ma sicuramente non sarà decisivo per ora. Nell'interpretazione dei dati sul voto isolano rientrante nella circoscrizione Campania 1 ci sono un po' di dati interessanti che comunque qualche informazione sulla politica locale la danno pur ricordando che in ogni caso mai i partiti hanno influenzato le elezioni amministrative. Il primo dato che riguarda tutta la circoscrizione Campania 1 è che questa è una delle pochissime zone in cui ha avuto successo il Movimento 5 Stelle con un 42,58% che ha portato all'elezione alla Camera di Antonio Caso e con un 44,85% che ha portato all'elezione di Maria Castellone al Senato. La prima notizia che riguarda Ischia è che pur essendo il Movimento 5 Stelle il partito più votato in tre comuni su sei e negli altri tre e comunque poco sotto Fratelli d'Italia la coalizione di centro-destra è andata oltre il 40% in tutti i comuni solani tranne all'Acquameno dove molti voti dell'ex senatore Desiano sono stati spostati al terzo polo che è andato ben oltre la media nazionale arrivando quasi al 15%. E a proposito di terzo polo l'altra notizia è che il duo Calenda Renzi nonostante l'odio generale dei lavoratori stagionali e dei cittadini alle prese con condoni edilizi il nuovo partito di centro si è comunque assestato intorno al 5-6% quindi al di sotto della media nazionale raggiunta solo a Serrara Fontana con l'8% ed è però incredibilmente sopra la Lega di Matteo Salvini che in quasi tutti i comuni solani non è mai andata oltre il 5% tranne non a caso a Forio. Per il resto Fratelli d'Italia e il centro-destra hanno comunque avuto la meglio sull'isola contro un partito democratico che è andato al di sotto della media nazionale di almeno 5 punti percentuali e soltanto a Ischi e Casamicciola anche qui non a caso ha raggiunto circa il 23%. L'altro dato interessante riguarda Forza Italia e quindi Berlusconi che sull'isola ha viaggiato ben al di sopra della media nazionale oscillando tra il 9 e il 15% a seconda dei comuni. Infine ha poco da festeggiare Annalisa Iaccarino candidata al Senato con noi moderati. È stata votata in maniera rilevante sì ma solo a Casamicciola 14,74% ovvero 407 voti per il resto poca roba. Forse però il dato più importante che riguarda l'isola è quello dell'affluenza. Se a livello nazionale il dato più basso di sempre è stato del 64% sull'isola è andata molto peggio. A Casamicciola e Ischia il dato più alto con il 46% appena. A Serrara quello più basso con il 40%. Un dato davvero sconcertante al netto dei falsi residenti che certifica, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, il totale disinteresse della popolazione isolana e di quella italiana verso la politica.